Sfia decide esattamente di piazzare prove incriminanti al gattoril o al laboratorio della latrina infatti quindi come ci dice la sfia dobbiamo dirigerci o al gattoril in questo punto della mappa oppure al laboratorio della latrina qui sotto sotto pantano palpitante infatti dovremo appunto piazzare queste prove incriminanti infatti se vi legate qui al laboratorio della latrina la primissima prova incriminante sarà esattamente vicino a questo cassonetto esattamente qui appunto basterà interagire e la prendete precisamente qui dietro vicino a questo cassonetto troveremo delle altre prove incriminanti precisamente in questo punto quindi basta appunto avvicinarsi interagire e piazzeremo anche queste altre prove incriminanti se invece non volete regarvi al laboratorio della latrina potete anche venire qui al gattoril e troverete delle altre prove incriminanti da piazzare infatti appunto la primissima prova incriminante che dovrete piazzare si troverà esattamente qui vicino a questo container e andiamo avanti perché oltre in questo punto troveremo delle prove incriminanti anche in quest'altra zona vicina a questa rollotto esattamente in questo punto apro la mappa precisamente qui troveremo delle altre prove incriminanti oltre queste due possiamo anche piazzarne un'altra precisamente dove c'è il benzinaio infatti se ci richiamo dove si trova il benzinaio potremo piazzare delle altre prove incriminanti quindi spero che questo video vi sia stato aiuto per capire come poterlo questa semplicissima sfida se è così come alzato vi ricordo di lasciare un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così se siamo aggiornati su questi tipi di video le like e lo schieno vaso a taglia infine condividi il suo video e vi ho detto mi siamo a vedere anche a loro appunto come poterlo questa semplicissima sfida degli incarichi epici barra leggendari di questa nuovissima settimana 2 di Fortnite noi ci vediamo un prossimo video alla prossima live